Amazon Prime si arricchisce di una nuova serie tutta italiana, alla cui regia ritroviamo il regista Salese Giuseppe Bonito, reduce dal grande successo del suo ultimo film L'Arminuta e dall'incetta di premi riconosciuti all'opera in diversi festival del cinema di tutto il mondo. Sono usciti ieri sulla piattaforma online di Amazon i primi cinque episodi del nuovo cream teen drama Bang Bang Baby, una serie tutta italiana che ripercorre le vicende di una giovane Alice e del suo viaggio alla riscoperta di un padre creduto morto, sullo sfondo la Milano dei tubi catodici e dei neon in cui si intrecciano le storie di una giovane ragazzina che sogna un futuro meno grigio e che si ritrova catapultata dalla periferia in un escalation di sangue e criminalità della malavita cittadina. In questo vortice la protagonista va alla scoperta di sé e soprattutto della sua disponibilità a scendere a compromessi per recuperare quella infanzia rubata proprio dalla criminalità che le ha portato via il padre. La serie dai tratti psichedelici è stata liberamente ispirata al libro L'Intoccabile di Marisa Merico e riadattata al piccolo schermo da Andrea Di Stefano che ha già conquistato Hollywood dirigendo attori del calibro di Benicio del Toro e Clive Owen. La regia della serie invece è stata affidata a Michele Alaiche, Margherita Ferri e Giuseppe Bonito. Per vedere proprio gli episodi diretti dalla regista Salese dovremo aspettare il prossimo 19 maggio quando Amazon Prime pubblicherà i restanti episodi di questa serie che si presenta sin dai primi frame avvincente e brillante.